Amici di Fulvio e le sue ricette benvenuti oggi vi faccio vedere come preparare dei calamari super croccanti prendiamo dei calamari freschissimi e li andiamo a pulire allora prima stacchiamo la testa togliamo le budella e la cartilagine trasparente presente all'interno del corpo riprendiamo la testa stacchiamo lì e andiamo a togliere gli occhi in questo modo e adesso non ci resta che togliere il dente che si trova in mezzo ai tentacoli e il nostro calamaro è pulito perfetto adesso non ci resta che sciacquarli molto molto bene asciugarli un po' e andiamo a togliere le due alette presenti lungo il corpo e li mettiamo da parte e andiamo a fare gli anelli spessi un centimetro e mezzo due centimetri non fateli troppo sottili altrimenti poi diventano duri una volta fatta questa operazione prendiamo la testa e i tentacoli e li tagliamo semplicemente a metà ripetete questa operazione per tutti i calamari presenti da detto prendete una ciotola con uno scolapasta li mettete dentro e li fate asciugare in frigorifero per mezza giornata dopodiché con una carta li tamponate bene questa è la fase più importante devono essere asciuttissimi altrimenti la frittura non verrà croccante asciugateli bene li mettete all'interno di un sacchetto trasparente così e poi andate a mettere la farina io ho usato una farina di semola rimacinata perché rimarranno più dorati e molto molto croccanti adesso mettete una generosa quantità di farina in questo modo vi ripeto ho usato la farina di semola rimacinata volendo potete usarla 00 chiudete il sacchetto e agitatelo coprendo interamente gli anelli con la farina in questo modo controllate che la farina sia dappertutto che i nostri anelli di calamari siano ben coperti perfetto questa operazione molto semplice da fare adesso prendete uno scolapasta e andate a togliere la farina in eccesso perché rischierebbe di bruciarsi in frittura andiamo a friggere con un olio di semi di arachidi a 180 gradi potete controllare la temperatura con un termometro semplicissimo termometro da cucina 180 gradi con i semi di arachidi per una frittura croccantissima andate a scrollare la farina in eccesso in questo modo così evitate di bruciarla in frittura scaldate bene l'olio e a questo punto ci trasferiamo ai fornelli e andiamo a friggere a massima fiamma alta vi dicevo controllate bene la frittura e vedete l'olio deve friggere abbastanza vivacemente e andate a dorare i calamari in questo modo la frittura verrà bella croccante guardate qua che sono dorati adesso li trasferite in un bel piatto con delle fettine di limone salateli soltanto alla fine per evitare che la frittura risulti morbida quindi salatura salatura alla fine e adesso godetevi questi calamari io ho avuto un piccolo imprevisto mia moglie voleva fregarmi anzi è riuscito a fregarmi un pezzettino di calamaro vabbè per questa volta la perdono ciao a a tutti da forvio alla prossima ricetta